27 gennaio 1945, 27 gennaio 2022. Sono trascorsi 77 anni dalla liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e dallo svelamento, agli occhi del mondo, degli orrori dello sterminio nazista. Da 21 anni, quel 27 gennaio è stato anche istituito come giorno della memoria e da 21 anni, Pesaro onora questa data enfatizzando la responsabilità della memoria. Un obbligo morale e culturale a non dimenticare e a tramandare il significato dell'Olocausto alle nuove generazioni, soprattutto quelle studentesche. Sarà così anche domani dove gli istituti superiori pesaresi si daranno appuntamento online per due ore nel segno del ricordo. Una memoria enfatizzata dagli elaborati degli stessi studenti. Ogni scuola infatti commemorerà le diverse vittime dello sterminio, dagli ebrei agli omosessuali, passando per Rom, testimoni di Geova e prigionieri politici. Scuole e autorità che saranno in collegamento attraverso una diretta tv che sarà trasmessa su Rossini TV e sul canale YouTube del Comune di Pesaro. Comune che parteciperà alla giornata con il sindaco Ricci, l'assessore alla crescita Camilla Murgia e il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini. Saranno presenti anche il prefetto Tommaso Ricciardi e la dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Alessandra Belloni. Il 27 gennaio Pesaro aprirà al pubblico anche il suo luogo simbolo della cultura ebraica, la sinagoga di Via delle Scuole che alle 11 e alle 17 proporrà visite guidate su prenotazione alla scoperta delle origini del ghetto pesarese fino all'epoca rinascimentale.